Cari amici di Radio Pugginio NER, bentornati. Siamo qui ora con una notizia che sta scuotendo il panorama politico e giudiziario italiano. Il sequestro di oltre 10,8 milioni di euro a Marcello Dell'Utri, una delle figure più controverse della politica italiana. 10,8 milioni di euro, voi ce l'avete? Non sono proprio bruscolini, si direbbe da queste parti. Questo provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Firenze su richiesta della direzione distrettuale antimafia, ha gettato ulteriori riflettori sulla sua già controversa carriera da politico e anche da carcerato. Marcello Dell'Utri, fondatore di Forza Italia e grande amico di Silvio Berlusconi, già noto per il suo coinvolgimento in passato con il mondo dell'affarismo, è stato condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Tuttavia, la recente mossa giudiziaria ha portato alla luce ulteriori dettagli su presunte irregolarità finanziarie legate al suo patrimonio. Secondo quanto riportato dalla procura di Firenze, Marcello Dell'Utri avrebbe omesso di comunicare, come previsto dalla legge Rognoni-Latorre, variazioni del suo reddito per un ammontare incredibile, più di 42 milioni e mezzo di euro. Questo sequestro milionario è il risultato di un'indagine più ampia, condotta a livello nazionale dalla direzione distrettuale antimafia, che mira ad individuare i mandanti esterni delle stragi continentali del 1993-1994. Se ricordate bene, sono gli anni in cui scende in campo Silvio Berlusconi, gli anni in cui viene fondata, insieme a Marcello Dell'Utri, Forza Italia. Il provvedimento cautelare, che ha coinvolto una cifra strabiliante, è stato giustificato con la presunta violazione della legge da parte di Dell'Utri, che avrebbe omesso di comunicare variazioni patrimoniali significative. Di conseguenza sono stati sequestrati più di 10,8 milioni di euro direttamente riconducibili a lui, oltre a ulteriori 8,25 milioni di euro che sarebbero indirettamente riconducibili al politico, tramite sua moglie Miranda Anna Ratti. Chissà se allora adesso scenderanno le tasse, visto che qualche milione è entrato allo Stato per questo sequestro. Forse no, le tasse aumenteranno come stanno facendo negli ultimi mesi, in continuazione, dalle sigarette ad altre accise, eccetera. Questa notizia, non vedo tutte queste persone lamentarsi come in altre occasioni, dicevo che questa notizia suscita una serie di interrogativi profondi sulle connessioni tra politica, finanza e mafia, quindi crimine organizzato in Italia. L'inchiesta in corso solleva anche dubbi sulla trasparenza e la legalità delle attività finanziarie di alcuni personaggi pubblici di spicco, naturalmente, che sono legati direttamente o indirettamente a Marcello Dell'Utri. Restate dunque sintonizzati qui a Radio Pugino NER per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda in continua evoluzione. Siamo qui per tenervi informati su ogni sviluppo e per esplorare insieme le implicazioni di queste vicende sul tessuto sociale e politico del nostro Paese. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le notizie più importanti qui a Radio Pugino NER.